Benvenuti a tutti, io sono Mattia Clementi e sono enologo dell'azienda Villa Corniole e ora vi illustrerò le nostre tre tipologie di Teroldego. Il Teroldego è uno dei vitigni principi, soprattutto tra i rossi, del panorama viticolo trentino. La doc Teroldego si estende tra i comuni di Mezzolombardo e Mezzacorona e prevede una superficie di circa 400 ettari. Se noi pensiamo che il trentino viticolo racchiuda in circa 10.000 ettari ed è solo il 2% della superficie evitata nazionale, possiamo capire come il Teroldego sia veramente una particolarità, una mica da valorizzare dai cui dare il giusto risalto. Il Teroldego è un vitigno molto generoso che tende a dare produzione anche elevate, però per ottenere dei vini di qualità è molto importante riuscire a contenere questa vigoria e avere produzioni molto limitate che quindi danno maggiore concentrazione, maggiore particolarità al prodotto. Noi proponiamo essenzialmente tre tipologie di Teroldego. Un Teroldego della lina classica dove prevale la vinificazione in acciaio e viene aggiunto al momento dell'imbottigliamento solamente un 20-25% dipende dalla nata di prodotto affinato in legno e quindi in barrique. Un altro prodotto invece che è una selezione di Teroldego che prende il nome dal vigneto da cui viene ricavata l'uva per fare quel vino, si chiama Sette Pergole. Sette Pergole infatti è un cru, una piccola zona molto favorevole all'interno della zona del Teroldego italiano che permette di avere un'uva di qualità ancora maggiore, ancora superiore. Infine abbiamo l'interpretazione più personale dell'azienda che è il passito Ambros, è un prodotto molto particolare. Il primo vino che andiamo a degustare è il nostro Teroldego rotagliano della linea classica. Teroldego è un vitigno che sprigiona subito dal momento della pigiatura delle uve, un colore molto importante che poi si mantiene durante diciamo le varie fasi di vinificazione. Possiamo notare infatti come abbia un bel colore rosso rubino, molto intenso, un colore molto importante. Al naso presenta delle sensazioni di frutta rossa molto molto intense, si va dal ribes, la mora, il lampone. In bocca è un vino molto molto elegante con comunque un corpo importante, ha una giusta tannicità, molto molto ben legata diciamo con le altre sensazioni, con l'acidità così che lo rende molto piacevole sia come diciamo accompagnamento di un pasto soprattutto di carni ma anche come vino diciamo così da bere in una conversazione. Il secondo prodotto che vi proponiamo invece è la selezione che appunto come abbiamo detto prima si chiama Settepergole. La differenza diciamo tra i due prodotti è la diversa vinificazione in cantina oltre che per questo prodotto le uve provengono interamente dalla zona Settepergole. Il terrolde grottagliano Settepergole infatti viene messo in barrique totalmente, 100% per oltre due anni. Successivamente a questo periodo viene fatto ancora un ulteriore periodo di affinamento, parte in acciaio e poi soprattutto in bottiglia dove il vino riesce a maturare, riesce così diciamo ad amalgamare bene le sensazioni del legno senza quindi che queste vadano a coprire la tipicità comunque del nostro terroldego. Anche in questo caso abbiamo un colore rosso molto carico, in questo caso diciamo i riflessi non sono più violacei come nel precedente ma sono un po' più di tonalità, un po' più rossa diciamo proprio dovuto al fatto che è un vino di annata precedente e quindi diciamo ha un'evoluzione molto più complessa. Al naso presenta anche in questo caso le sensazioni che ritrovavamo nel primo terroldego e quindi la frutta rossa, però sono amalgamate con la sensazione del legno e quindi la speziatura che conferisce diciamo questo tipo di affinamento. Il bocco è molto possente, lungo, strutturato, ha un tannino molto dolce ed è un vino diciamo che può essere anche in questo caso utilizzato sia con la carne che poi come vino da meditazione, da diciamo anche fuori dal pasto. La terza interpretazione che appunto è quella diciamo così più particolare, più tipica dell'azienda, è il nostro passito Ambros. Il nostro passito diciamo viene raccolta l'uva a metà settembre, quindi più o meno all'epoca di raccolta del terroldego per la vinificazione normale e invece viene posta in piccole cassette di plastica dove rimane per un periodo che va all'incirca dai due ai due mesi e mezzo, tre, dipende un po' da come evolve la stagione, dalle temperature, dalla ventilazione, così. E dove diciamo in questo periodo l'uva si concentra, perde diciamo acqua, sostanzialmente per evaporazione perde acqua e quindi tutte le sostanze, sia gli zuccheri, ma soprattutto anche le sostanze coloranti, le sostanze responsabili poi delle varie note degustative, vengono concentrate e quindi si ha un prodotto molto particolare. Questo fermenta in acciaio all'incirca per 30 giorni a contatto con le bucce e successivamente viene messo in barrique. La particolarità del nostro passito è quella di essere un passito diciamo anomalo, infatti ha un contenuto zuccherino non molto elevato, siamo attorno ai 60 grammi per litro, ma invece ha una concentrazione alcolica molto importante, è un 15 gradi alcol e quindi un prodotto veramente particolare da provare. A naso diciamo ci sono delle sensazioni di frutta molto matura, di marmellata, di confettura, un profumo molto intrigante. In bocca si sente sì l'alcolicità e quindi la sensazione di calore dovuta all'elevato grado alcolico, però è piacevolmente controbilanciata dal tenore zuccherino. È un vino che ben si accosta con tutti quei dolci più particolari, magari come delle crostate molto di confettura, ma belle, molto secche diciamo, non prodotti dolci, troppo dolci e soprattutto si sposa alla grande col cioccolato, soprattutto un cioccolato molto fondente. Grazie a tutti, speriamo di avervi i nostri ospiti, averla di giovane nella nostra cantina per potervi far degustare anche gli altri prodotti della nostra gamma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.